Sabato 12 maggio si terrà a Fano un convegno sul tema della sterilità di coppia. È il tentativo di promuovere una lettura un po' diversa rispetto a quello che accade abitualmente della problematica della sterilità di coppia. Vedrà la presenza di alcuni professionisti della salute, in particolare ginecologi, andrologi e il sottoscritto in qualità di medico legale e bioticista tenteremo di affrontare la problematica della infertilità di coppia da una prospettiva intanto di ottica preventiva ed educativa. La fertilità è un bene prezioso che deve essere innanzitutto preservato. Una seconda tematica che verrà affrontata è quella dell'attenzione alla infertilità maschile, oggi probabilmente poco valorizzate, poco oggetto di attenzione dal punto di vista diagnostico e un'ultima parte, una sessione conclusiva riguarderà soprattutto i temi più squisitamente bioetici e cioè cosa c'è dietro il mercato della procreazione medicalmente assistita. È la vera terapia della sterilità o non è piuttosto il ricorso a una tecnologia che comunque ha dei fallimenti e determina anche nelle coppie che vi si avvicinano una serie di ripercussioni anche sul versante psicologico non irrilevanti. Quindi l'invito è per sabato 12 maggio dalle ore 8 e 30 alle ore 14 presso il centro congressi del centro pastorale ex seminario di Fano. È rivolto il convegno a tutta la cittadinanza in particolare agli operatori sanitari, medici e non, perché possano prendersi cura della salute, in questo caso riproduttiva e della fertilità, delle persone che hanno questo problema.